Il pensiero della società lo deve chiedere alla società, questa domanda che fate sulle dichiarazioni di Walter Sabatini la dovete fare a Walter se volete dei dettagli sulla dichiarazione. Io quello che so è che è una partita da gestire domani e che il capitano è un giocatore importantissimo per noi, non è perché è uscito l'ultima partita che non ci aiuterà a ottenere quello che vogliamo tutti, lui il primo, la qualificazione per la Champions. E non è solo di Francesco che parla ma di tutti gli altri giocatori e di tutti i concorrenti dello staff, io il primo, faremo i conti e il bilancio alla fine della stagione. A che serve parlare oggi dei casi dei singoli? Non voglio distrazioni, voglio concentrazione sulle partite e sulla prossima che è sempre la più importante della stagione.